Sì, ragazzi, piomberemo sul sindaco Tabaccaio con un attacco a sorpresa. Ci avete presente lo sbarco in Normandia? No, no, no. Marcina, ma ci andate mai? Ma cosa ti dici? Tu non puoi capire, sei del Bronx? No, mi son di Magliano Veneto. E allora non rompere i coglioni. Ragazzi, comitemi le spalle.